E' un piacere rivedere Antonio Balzano, intanto la prima domanda Antonio, ci vedo in buona forma, anzi questa è una costatazione. Ma sotto la maglia qualche chiletto in più c'è però, ci sta, dopo che smetti ci sta lasciarsi andare un pochino. Senti, come ci si sente a insegnare calcio? Ma è un'esperienza, la prima sinceramente per quanto mi riguarda ed è molto positiva, molto positiva perché ha a che fare con i bambini, con i ragazzi, i giovani, che secondo me è il bello del calcio perché iniziano a capire come funzionano determinate cose, quindi c'è purezza, come dico io, e questo è fondamentale. Quindi loro poi sono spugne e assorbono tutto quello che uno, dalla mia esperienza, può aiutare nel consiglio, nell'aggiustare qualcosa che va aggiustata. Quindi è un'esperienza super bella. Fondamentale non è una frase fatta di circostanze che si divertano questi ragazzi. Ah, questa io ho sempre detto è alla base, lo dicevo anche quando eravamo un po' più grandi di questa età perché nel calcio, uno quando pensa al calcio pensa al divertimento, è iniziato a giocare a calcio per divertimento, quindi fa il lavoro più bello del mondo e non deve mancare il divertimento. Tu sei un 86, quindi da poco compiuto, sono andato a rivedere, 38 anni, sei ancora giovane, però sei cresciuto da ragazzino sulla strada, quindi la palestra della strada che oggi non c'è più. Come si fa? Adesso discutevamo con gli altri allenatori stamattina, è un problema perché i ragazzi, cioè noi molti aspetti, anche coordinativi, non avevamo bisogno di allenarli perché giocando per strada tu trovavi degli ostacoli, riuscivi a cadere nel modo giusto per non farti male, ti rampiccavi sugli alberi, sono tutte banalità, ma non sono banalità perché ti aiutavano nella coordinazione, nel movimento. Adesso questi ragazzini non hanno più questo purtroppo, è un peccato, e quindi tocca allenarli, quindi per gli allenatori giovani devono allenare e molte volte non hanno il tempo proprio necessario per poter allenare tutti questi aspetti. Più complicato probabilmente allenare i genitori di questi ragazzi. Non tocchiamo questo tasto perché io dico sempre, i genitori devono fare i genitori e devono lasciare ai ragazzi la libertà di divertirsi e di provare a raggiungere un sogno che non è assolutamente facile, ve lo garantisco. È giusto che loro lo abbiano, ma non deve esserci la forzatura da parte del genitore perché altrimenti vai a causare dei problemi poi nella testa del ragazzo. Il tuo cuore, neanche a dirlo, è biancazzurro, ti faccio l'ultima domanda. È un delfino in questo momento un po' in difficoltà, questa situazione ambientale, qual è il tuo punto di vista? Da dove si dovrebbe ripartire? Io, Massi, ti dico, sono venuto quest'anno a vedere quasi tutte le partite e ho notato una cosa che mi ha rattristito molto, il fatto che c'è proprio una negatività incredibile quando entri in quello stadio. Ciò che per me è follia perché io quando entravo in quello stadio respiravo positività, respiravo entusiasmo. Nelle ultime stagioni è venuto a mancare l'entusiasmo, è venuto a mancare l'unione tra città, squadra, dirigenza. Un po' questa roba non fa bene ai ragazzi, capito? Quindi io penso che se si riesce a sanare questo tipo di situazione, pescare una società come sappiamo, una piazza, non merita assolutamente questa categoria perché potrebbe fare veramente la Serie A ad occhi chiusi. Per le strutture che ha, per come si sta, insomma sono tante le motivazioni. Ovviamente devono dare una svolta, devono cercare di capire come risolvere il problema perché altrimenti si fa fatica così. Io sono sincero, io penso che se le situazioni rimangono queste, ci vogliono 40 anni per ritornare ai livelli che merita. Grazie a tutti.